Canova, il viaggio a Carrara. È questo il titolo della mostra che aprirà i battenti a Carrara il 1 agosto e che è stata presentata nella sede della Presidenza della Regione Toscana. L'esposizione indaga il rapporto fra lo scultore Antonio Canova e la capitale internazionale del marmo. Si racconta una vocazione del territorio, reinterpretandola culturalmente. Si mettono insieme varie istituzioni, tra cui l'Accademia delle Belle Arti di Carrara, in questo percorso e appunto si raggiunge l'obiettivo di raccontare a un pubblico vasto una storia che per molti è sconosciuta. È il modo con il quale cerchiamo non solo di mettere in luce uno straordinario artista e il suo legame con Carrara, ma è un modo per valorizzare l'offerta culturale della nostra regione e legarla ai nostri territori. In esposizione cinque preziosi gesti originali, documenti conservati presso l'Accademia delle Belle Arti della città, un corpo di lettere conservate nell'archivio di Stato, un contratto finora sconosciuto dal 1783 fra Antonio Canova e il conte del medico Staffetti per l'acquisto dei blocchi di marmo per il monumento funebre di Clemente IV. Attraverso la tecnologia, attraverso nuovi linguaggi esploriamo la scultura guardandola nei minimi dettagli e con dei racconti che approfondiscono l'opera e accompagnano il visitatore in un viaggio, in un percorso totalmente nuovo, un percorso assolutamente parallelo di conoscenza dell'artista. La mostra è allestita nel Museo Carmi di Villa Fabricotti e chiuderà nel giugno del 2020. Grazie. Grazie.